Amici di Quelli che eroi, stasera per la rubrica Music Live abbiamo l'onore di mostrarvi alcune descrizioni di un grande guitarrista, uno dei più bravi nel panorama genovese e nazionale parliamo di Luca Borriello, ospite della trasmissione stasera e qui lo abbiamo visto per vivo al posto antico l'ultimo spettacolo che si è tenuto al migliore insieme al bravo guitarrista napoletano Giuseppe Scarpato uno spettacolo tutto blu dove Luca Ruetta con Scarpato e la sua Stratocaster si intreccia con una eterna, privata e risposta a me il primo pezzo è dei video scritto da George Harrison molto famoso while my guitar gently waves the language of 268 musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.